Certo, forse nel quartiere Casanova, come lamentano parte dei residenti, sul fronte servizi c'è ancora un po' da lavorare, ma in quanto ad iniziative per cittadini, gli abitanti del rione più giovane della città di Bolzano, non si possono certo lamentare, almeno a giudicare dal ricco programma delle proposte estive denominate ECO, acronimo che sta per eventi Casanova Hortless, coordinate dalla Vispa Teresa. Si tratta di un progetto animativo, sociale, culturale che la Vispa Teresa, insieme al Comune e a molte altre associazioni del territorio, promuove per il quarto anno consecutivo. Quindi si tratta di un progetto rivolto proprio alle persone che abitano il quartiere, ma non solo. Abbiamo seguito la lettura animata per bambini, l'incontro programmato per giovedì 6 agosto alle 10.30 alla saletta IPES di via Erasmo 54, ha visto però presentarsi un solo bimbo. Niente paura, ecco allora che l'iniziativa ha preso Baracca e Burrattini e si è spostata subito all'aperto in uno dei tanti parchi giochi del quartiere. Qui, in un battibaleno, le adesioni sono state numerose con i bimbi affascinati dagli appassionanti racconti curati da Maria Pia Bazzacco. Si leggono delle fiabe e si animano attraverso il corpo e i bambini rispecchiano, cioè i bambini accettano questo modo di esprimersi con il corpo. Ricco, dicevamo, il programma di appuntamenti che si concluderà ai primi di settembre con tanto di festa. Lunedì 10, dalle 4.30 ci sarà la cooperativa Casa Bimbo Tag & Smoother che proporrà dei laboratori manuali per i piccolissimi. Ci saranno i pomeriggi di gioco, ci sarà qualche gita in piscina e per concludere ci sarà la festa il 5 settembre, sempre qui appunto agli spazi verdi del Casanova con spettacolo di Burrattini e merenda e incontro. Grazie a tutti.